Il nuovo impianto di illuminazione pubblica nella villa comunale Umberto I di Bitonto inizia già ad innescare polemiche. Polemiche che non riguardano la sistemazione dell'impianto, visto che sull'albo pretorio c'è soltanto l'ok dell'aggiunta baticchio al progetto da 134.000 euro, che prevede l'installazione di 151 lanterni a LED a risparmio energetico. Prevista anche l'installazione di luci nelle aiuole per migliorare la sicurezza. A scatenare la discussione è stato involontariamente l'energy manager nominato dal comune nell'aprile 2013 che sarà il direttore dei lavori. L'ingegnere Alessandro Cafagna è finito nel mirino di diversi utenti che su Facebook hanno chiesto al sindaco chiarimenti in merito alla sua nomina. Da quanto si legge nel suo curriculum che a baticchio ha pubblicato per zittire gli attacchi, il 32enne professionista avrebbe ricevuto l'importante incarico nonostante una laurea triennale con una votazione piuttosto bassa. Risulta però che da dicembre 2008 a marzo 2009 ha svolto un tirocinio formativo presso l'ufficio tecnico del comune di Bitonto, affiancando il personale per la convenzione Consip Servizio Luce. Nel 2010 ha frequentato e superato il master in progettazione e misure nell'illuminazione artificiale. Nel suo curriculum ha inserito anche le docenze e i lavori che ha svolto regolarmente per Palazzo Gentile. Nel 2013 avrebbe ottenuto la qualifica di energy manager. Nello stesso anno, ad aprile, viene nominato manager al comune di Bitonto. Non sono un dipendente comunale, ha detto a Punto TV, anche se ci vado lì tutti i giorni. Negli ultimi anni lenti a leggere quanto scritto dal sindaco per difenderne la posizione avrebbe in effetti ottenuto risparmi energetici, anche se non viene detto se è frutto del calo del prezzo dell'energia o peraltro. Di sicuro nei proclami dell'amministrazione un anno fa sull'albo pretorio veniva scritto sul fronte del monitoraggio del risparmio nella fornitura elettrica del comune l'ingegner Cafagna ha programmato il report a cadenza quadrimestrale per cui il prossimo aggiornamento sulle economie conseguite in bolletta nel periodo giugno-settembre 2013 è previsto per il mese di ottobre. Tale report però sarebbe rimasto chiuso nei cassetti di Palazzo Gentile. Ecco cosa ha risposto l'ingegner Cafagna interpellato da Punto TV. Nei prossimi giorni farò una comunicazione ufficiale al comune. Periodicamente ogni quattro mesi faccio una verifica sul prezzo dell'energia che paghiamo al fornitore e quella della Convenzione Consip, la società per azioni del Ministero delle Economie e Finanze che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. I dati li trasmetto al comune con una nota ufficiale. Dati conclude che possono anche non essere pubblicati.